20 giugno 2022 secondo giorno sui Dolomiti, prosegue il giro e in questo terzo video lasciamo Livinè e arriviamo ad attaccare la salita del passo falsare passando prima dai vari paesini. Sono sempre sulla mia bianchi oltre XR4 e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale in modo da essere informati su tutti i nuovi video che verranno caricati e ricordatevi di cliccare anche sulla campanella di fianco in modo da ricevere le notifiche e già che ci siete condividete sui social i video che preferite. Se volete potete seguirmi su Strava in modo da avere tutti i dettagli sui giri che faccio. Volendo potete seguirmi anche su Twitter e perché no anche su Instagram Vi ricordo che nelle descrizioni sotto al video trovate sempre i link a tutta l'attrezzatura che utilizzo vi ricordo Grazie a tutti. 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 Rio Castello. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco. Grazie a tutti. 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 , a tutti. 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 a tutti.